Amici e amici bianconeri, buonasera e bentrovati qui sul mio canale. Secondo contenuto di giornata, come vi avevo promesso dopo aver acclarato che c'è più di qualcosa che non va, il contenuto di questa mattina, chi non l'avesse visto può andarselo ovviamente a riprendere qui sul canale, veniamo a quelli che sono gli sviluppi, gli esiti post conferenza stampa pre Juventus Lecce, perché domani sera contro il Lecce la Juventus in casa deve tornare assolutamente alla vittoria, qualsiasi altro tipo di risultato sarebbe assolutamente fallimentare per quello che è la stagione che la Juventus dovrà vivere, perché anche qui va messo un puntino sulla I. Prima di sviluppare il tutto mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube, azionate la campanella notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando che possiate essere così anche voi in linea con quanto vado ad esporre. Dicevo, acclarato che con il VAR ci sia decisamente più di una situazione che non funzioni, vediamo tante volte tante situazioni giudicate in maniera diametralmente opposta o comunque in maniera non uniforme tra un episodio all'altro, attaccandosi loro che debbono spiegare il VAR alla casistica, cioè sono casi differenti. In realtà, parliamoci chiaro, non c'è chiarezza sull'utilizzo del VAR e io credo che non ci sia chiarezza né per il fruitore del prodotto calcio né per chi quel prodotto calcio lo dirige, lo regolamenta, lo arbitra. Tanto che vediamo situazioni gestite in maniera differente proprio tra un arbitro e l'altro. Il designatore Rocchi si è esposto in tal senso dicendo che lui molto probabilmente avrebbe dato il cartellino rosso ma non si sente di condannare arbitro e VAR per la non rivisitazione dell'episodio. Non avevamo dubbi su questo, assodato che trattasi di un grave errore di valutazione. Quello era un cartellino rosso che non doveva nemmeno essere così disquisito su questo canale ma nemmeno altrove. Anche perché, va detto, l'arbitro può anche avere una visione distorta lì per lì sul match ma quando c'è il VAR che ti può aiutare in una rivisitazione della notizia, no più della notizia, di ciò che tu hai visto, della situazione che si è sviluppata in campo, ecco non mi veniva la parola, è ovvio che non si possa far finta di nulla. Il VAR, secondo il mio punto di vista, non può tenere la stessa linea tenuta dall'arbitro che può aver visto in maniera accelerata e quindi magari non perfetta, mentre con la ripresa delle immagini, intervento forte, meno forte, è un intervento scomposto, è un intervento assolutamente da bannare nel mondo del calcio, quindi era passibile di cartellino rosso anche con l'utilizzo del VAR. Questa è la mia umile opinione, non ci sono santi che tengono, è un errore e quindi come si è parlato a tanto e a lungo degli errori pro Juve in quel famoso Juventus e Bologna che tutti ricorderete, beh qui se ne è parlato davvero poco ma dal mio punto di vista senza difendere la prestazione oscena offerta dalla Juve e da alcuni suoi singoli in particolare, quello è un errore che avrebbe potuto cambiare la storia del match, ma veniamo alla conferenza perché domani si gioca con il Lecce e Massignano Allegri due cose della sua conferenza voglio sottolineare. La prima è che abbiamo perso in esperienza ma abbiamo acquisito in gioventù, spensierattezza e velocità. Bene, questo è un dato che deve assolutamente essere preso come una cosa positiva e non come una cosa negativa, perché sì, si perde l'esperienza, non è mai il meglio della vita ma certamente il fatto di aver acquisito in velocità, in spensierattezza e proprio su quella spensierattezza che Massignano Allegri dovrebbe andare a lavorare in gioventù, ecco che io credo che siano tre fattori fondamentali per una Juve che deve essere diversa da quella passata, una Juve che non può, data la qualità se vogliamo, e l'esperienza stessa della Rosa, star lì tanto a giochichiare dopo il vantaggio. Una Juve che deve trovare una sua fisionomia, ovvero cercare sempre e comunque contro ogni avversario di provare a vincerla. Provare a vincerla significa essere lì sul pezzo, martellare, martellare e martellare. Cosa che io lo dico qui prima della partita, Juventus-Lecce mi preoccupa, perché dalla conferenza di Allegri non vorrei che il messaggio che passasse al gruppo squadra, dato che siamo la Juventus e abbiamo il dovere, nonché l'obbligo, sottolineerei, di qualificarci quantomeno alla prossima Champions League, ecco che subentri la paura di gestione di queste situazioni e ricominciare a vedere la Juve così molto speculativa, una Juve non sul pezzo, o comunque una Juve che cercherà magari di barricarsi, colpire in contropiede e ribarricarsi per difenderla. Ecco, questo è l'auspicio più grande che tutto questo appunto non si verifichi. Vediamo se la sconfitta di Sassuolo, come ieri commentavo, sgretolate tutte le certezze, ecco possa aver tolto alla Juve quella sicurezza, quella spensieratezza, quella gioventù che invece mi era tanto piaciuta nel primo tempo contro l'Udinese e che avevo trovato in piccoli sprazi contro l'Empoli, ma soprattutto contro la Lazio. È chiaro, vivremo di alti e bassi nel corso di questa stagione, una Juve che ha deciso di intraprendere un percorso che quantomeno per quello che ci è stato mostrato sembra essere leggermente diverso, quindi una Juve più verticale, una Juve pronta ad una reaggressione più alta. Speriamo, ripeto, che la partita di Lecce ci dia queste conferme e non ci dia l'adito a pensare che siamo tornati ancora una volta indietro con una Juve che per paura di non vincerla, ecco, giocherà un calcio assolutamente da barricate e contropiede. Speriamo che tutto questo non avvenga, ricordandoci che giochiamo contro una squadra che insieme all'Inter è l'unica a non aver ancora perso, siamo solo alla quinta giornata, quindi ovvio che si può incanalare un avvio di stagione in questa situazione e poi magari uscirne tutto un altro campionato, di sicuro la Juve deve vincere, non ci sono scusanti perché in qualsiasi modo la si vada a guardare, la rosa della Juve al di là del Monte Inghaggi è una rosa che non può essere nemmeno lontanamente paragonata a quella del Lecce e quindi non esistono scusanti. Detto questo, è ovvio che dobbiamo anche considerare l'altra affermazione di Massimiliano Allegri, nella quale io non mi trovo assolutamente d'accordo, io l'ho detto prima che iniziassi il campionato, questa Juve ha il dovere, nonché l'obbligo, tanto che scrissi un pezzo sul mio blog che ha tra l'altro riscontrato anche parecchie critiche negli strenui difensori di Massimiliano Allegri a ragione del fatto che il sottoscritto non è pro Allegri o contro Allegri, cerco di analizzare le situazioni, i momenti e inutile ribadire che a suo tempo lo avrei sostituito ma così non è stato, si va avanti con Allegri, non posso essere qui tutti i giorni a tirare la croce addosso o una accettata nella schiena al mister per una prestazione che non è andata come avremmo voluto, però sottolineo un però, non mi trovo concorde con l'affermazione sarà dura entrare nelle prime quattro, è chiaro che nessuno ti regala niente, sarà tutto duro da conquistarsi, ma la Juve con il solo campionato da preparare, non avendo le coppe e con la rosa che si ritrova, dite quello che vi pare, ma dentro le prime quattro ci deve stare tassativamente perché se così non fosse, per quanto mi riguarda e per quanto ad alcuni non piaccia che si parli di fallimento sportivo, io lo dico sarebbe un fallimento totale a livello sportivo, la Juve nelle prime quattro ci deve entrare tassativamente senza se e senza ma, pertanto da domani sera riprendere subito la strada della vittoria, vincere aiuta a vincere, crea autostima e quelle certezze sgretolate contro il Sassuolo debbono essere pian pianino ricostruite, per farlo serve quella spensiera testa, quella gamba, quella velocità, quella gioventù e soprattutto quell'input che deve arrivare da chi dirige questi ragazzi che tanto ragazzi poi non sono, sicuramente non hanno quella esperienza di gestire una magari blasone così importante con la maglia della Juve come avevano chiaramente la Juve di quelle grandi vittorie che anche di fronte ai torti del VAR riusciva comunque andare oltre e vincere le partite, ditemi la vostra, noi ci sentiamo presto, commentate mi raccomando come sempre fino alla fine, forza Juve, ciao! Ciao!